Istologia, lezione 37 In questa lezione tralasceremo per un attimo il percorso che stiamo facendo sui tessuti per soffermarci sui gruppi sanguigni. I gruppi sanguigni sono una caratteristica dell'organismo che è geneticamente determinata. I gruppi sanguigni, queste caratteristiche dell'organismo, si determinano in base a due particolari condizioni. La presenza di alcuni antigeni particolari sulla superficie dei globuli rossi e la presenza di particolari anticorpi all'interno del plasma sanguigno. Queste sono le condizioni per determinare il gruppo sanguigno. Per stabilire di che gruppo sanguigno è un determinato organismo, vengono utilizzati due sistemi, il sistema AB0 e il sistema RH. Il sistema AB0 si basa sulla presenza di due antigeni e di due anticorpi a livello del plasma. In base alle combinazioni di questi due antigeni e questi due anticorpi si hanno i diversi gruppi sanguigni del sistema AB0. Un individuo di gruppo A è caratterizzato dalla presenza di un antigene A sulla membrana del globulo rosso. Contemporaneamente è presente a livello del sangue un insieme di anticorpi anti-B. Questo perché quando a livello del corpo si stabilisce che un organismo è di gruppo A, cominciano a svilupparsi in quell'organismo degli anticorpi contro B. B, cioè in pratica l'organismo, percepisce B come un nemico e ogni volta che in un organismo di tipo A ci sono, vengono trovati dei globuli rossi di tipo B, questi globuli rossi, visti come not-self, vengono distrutti. La stessa cosa, al contrario, funziona per il gruppo B. Infatti il gruppo B è caratterizzato dalla presenza dell'antigene B e dalla presenza di anticorpi anti-A, per la stessa ragione che abbiamo già esaminato con il gruppo A. Il gruppo 0, invece, è caratterizzato dall'assenza di antigeni sulla membrana, ma dalla presenza sia di anticorpi anti-A che anticorpi anti-B. Perché questi organismi del gruppo 0 recepiranno come organismi estranei, come globuli rossi estranei, sia globuli rossi con l'antigene A, sia globuli rossi con l'antigene B. L'ultimo gruppo di questo sistema è il gruppo AB, in cui gli organismi hanno sia l'antigene A che l'antigene B sulla membrana dei globuli rossi. Poiché i globuli rossi sono caratterizzati dalla presenza di tutti e due gli antigeni, il corpo non produrrà alcun tipo di anticorpo. Il sistema RH, invece, si basa sulla presenza di una glicoproteina di membrana, nota come fattore RH, e sugli anticorpi anti-RH. In base a questo sistema abbiamo soggetti RH positivi e soggetti RH negativi. I primi RH positivi sono caratterizzati dalla presenza del fattore RH sulla membrana degli eritrociti. Ovviamente, questi stessi individui non avranno degli anticorpi anti-RH. Per quanto riguarda, invece, il gruppo RH negativo, sarà composto da soggetti che non hanno il fattore RH sulla membrana degli eritrociti. Ci verrebbe da pensare che questi individui producano anticorpi anti-RH. Tuttavia, non è così. I soggetti RH negativi non hanno anticorpi anti-RH all'interno del plasma. Questo perché l'organismo di base non ha conoscenza del fattore RH, quindi non può produrre anticorpi. Un organismo RH negativo comincia a produrre anticorpi anti-RH quando viene a contatto con il fattore RH, quindi quando ci sono, diciamo, dei miscoli di sangue con soggetti RH positivi. In questo caso, il soggetto RH negativo si sensibilizza e comincia a produrre anticorpi anti-RH. La presenza dei gruppi sanguigni pone alcune barriere nei casi di passaggi di sangue, nel caso delle trasfusioni. Quindi bisogna stare attenti a vedere un gruppo sanguigno, a quali soggetti può donare e da quali soggetti può ricevere. Ragioniamo in questo modo. Prendiamo come esempio 0 RH negativo, che è considerato donatore universale. Un soggetto del genere, infatti, non presenta antigeni A né antigeni B. Per questo non può essere attaccato né da anticorpi anti-A presenti nei soggetti B, né da anticorpi anti-B presenti nei soggetti A. Inoltre, il fatto che ci sia di gruppo RH negativo fa in modo che, se anche del sangue RH negativo entrasse in un soggetto RH positivo, non succede nulla, perché il sangue RH positivo non possiede anticorpi anti-RH. E inoltre, un soggetto 0 negativo non possiede l'antigene RH. Per questa ragione, 0 negativo può donare a tutti. Tuttavia, 0 negativo può ricevere solamente da 0 negativo. Questo perché 0 negativo contiene anticorpi anti-A e anti-B, per cui non può ricevere né da soggetti con l'antigene A né da soggetti con l'antigene B. Inoltre, se un soggetto RH negativo venisse a contatto con un soggetto RH positivo, svilupperebbe gli anticorpi. Quindi, 0 negativo è un donatore universale, ma può ricevere solo da 0 negativo. Consideriamo adesso 0 RH positivo. 0 RH positivo dona sempre indipendentemente da soggetti A o B, perché appunto non presenta antigeni, però in soggetti RH negativo questo tipo di sangue fa sviluppare gli anticorpi anti-RH. Poiché 0 RH negativo possiede l'antigene che è il fattore RH, in un soggetto RH negativo causerebbe una sensibilizzazione e la produzione di anticorpi. Per cui, questo soggetto RH positivo può donare solamente a tutti i gruppi che hanno il fattore RH positivo, indipendentemente da AB o AB. Questo stesso gruppo riceve solamente dagli 0, perché appunto possiede anticorpi, anti-A e anti-B, ma può ricevere sia dagli 0 RH positivo, sia da quelli RH negativo, perché non ha anticorpi anti-RH e quindi l'ingresso del fattore RH sarebbe innocuo. Ragionando allo stesso modo, si può cercare di capire quali sono i gruppi che possono ricevere e quali quelli che possono donare ad altri gruppi. I gruppi sanguigni sono ereditari, ovvero si ereditano in base al DNA. La determinazione di un gruppo sanguigno è proprio sancito dalla presenza nel DNA dell'informazione per quel gruppo sanguigno particolare. Quindi stiamo introducendo alcuni concetti di genetica che però sono meglio approfonditi nelle lezioni di biologia e genetica. Consideriamo una molecola di DNA. Su questa molecola è presente un insieme di particolari sequenze che codificano per un'informazione, ovvero in questa sequenza particolare di DNA è scritto come deve prodursi una particolare molecola. ad esempio una proteina. La sequenza di DNA in cui è presente una particolare informazione viene chiamata gene. I geni sono parte dei cromosomi. All'interno di un organismo ogni cromosoma ogni cromosoma ogni tipo di cromosoma è presente in due copie. Ci sono due cromosomi diversi per un unico tipo di cromosoma. Di questi un cromosoma è di origine paterna un altro è di origine materna. Poiché all'interno di una stessa coppia di cromosomi i cromosomi sono uguali i cromosomi della coppia hanno gli stessi geni. Tuttavia questi geni possono essere presenti in forme diverse. Due geni che svolgono la stessa funzione ma che assumono forme diverse prendono il nome di alleli ovvero sono delle forme alternative di uno stesso gene. L'informazione che deriva da uno stesso gene è il risultato delle informazioni che provengono dai due alleli. Quindi alleli sono forme diverse di uno stesso gene. i due alleli possono anche essere diversi tra loro però all'interno del cromosoma occupano sempre la stessa posizione. La posizione che viene occupata dai geni all'interno di un cromosoma prende il nome di locus. Se un organismo presenta gli stessi alleli all'interno dei cromosomi viene detto omozigote per quel carattere. Infatti poiché gli alleli daranno origine ad un'informazione che viene esternata come carattere ovvero come caratteristica ad esempio il carattere gruppo sanguigno colore degli occhi si dice che questo organismo quindi è omozigote per quel determinato carattere cioè per quel tipo di informazione sono presenti due alleli uguali invece nel caso di un organismo eterozigote gli alleli di uno stesso gene sono diversi. l'insieme degli alleli e quindi dei geni costituiscono il genotipo il genotipo corrisponde a quello che c'è scritto sul DNA e in base a ciò che c'è scritto sul DNA si produrranno delle informazioni queste informazioni verranno esternate cioè saranno visibili saranno attuate come fenotipo il fenotipo è la manifestazione del genotipo cioè in base a quello che viene indicato dagli alleli si produce un determinato fenotipo ad esempio se gli alleli dicono rosso e verde cioè se indicano come informazioni il rosso e verde il fenotipo che si produrrà sarà sia rosso che verde quindi sarà un misto se il genotipo dice vuoto e rosso il fenotipo sarà rosso se il genotipo dice rosso e rosso il fenotipo sarà rosso quindi il fenotipo è ciò che è contenuto nel genotipo esternato cioè attuato il fenotipo tuttavia può essere a volte diverso da quello che è indicato nel genotipo questa differenza può essere dovuta a diversi fattori uno dei fattori che determinano un fenotipo diverso è il rapporto che è presente tra gli alleli ci possono essere alleli dominanti e alleli recessivi ad esempio l'allele che determina il colore rosso è dominante quello che determina il colore giallo è il recessivo poiché il fenotipo è la fusione dell'informazione che proviene dai due alleli ed essendo il rosso dominante si avrà come fenotipo la manifestazione del solo colore rosso perché è dominante quindi questo è un caso di dominanza completa l'allele del rosso domina rispetto al giallo ci sono altri casi in cui il rapporto tra alleli può essere diverso ovvero possiamo avere due alleli che sono entrambi dominanti per cui nel fenotipo avremo l'espressione di entrambi i genotipi entrambi gli alleli si ha una cosiddetta condizione di codominanza questi sono solo alcuni dei tipi di rapporti che sono presenti tra gli alleli e del loro fenotipo però questi due ci servono particolarmente per i gruppi sanguigni spostiamo questo discorso generale sui gruppi sanguigni i soggetti che mostrano l'antigene A quindi A come fenotipo possono avere un genotipo AA oppure un genotipo A0 i tre alleli AB e 0 sono infatti in rapporti di dominanza diversi tra loro A e B sono dominanti 0 è recessivo quindi un soggetto che ha un fenotipo A può essere sia AA sia A0 perché A è dominante completamente dominante rispetto a 0 quindi anche se c'è A0 il fenotipo sarà sempre A quindi A si può avere sia in un caso di omozigosi dominante AA sia in un caso di eterozigosi dominante A0 per quanto riguarda il fenotipo B quindi un soggetto che è di gruppo B si può avere sia con il fenotipo con un genotipo BB quindi un genotipo omozigote dominante sia con un genotipo B0 un soggetto che quindi è eterozigote completamente dominante per quel carattere per quanto riguarda invece gli alleli A e B essendo tutte e due dominanti presentano danno origine ad una condizione di codominanza quindi si svilupperà un fenotipo che è sia A che B questo nei soggetti AB nei soggetti 0 invece si manifesta il fenotipo 0 solo se tutte e due gli alleli sono recessivi ovvero si manifesta nel caso 0 0 quindi omozigosi recessiva per quanto riguarda il fattore RH la questione è un po' più semplice sono presenti solo due alleli di grande e di piccola di solito quando un allele è dominante si indica con la lettera grande invece se un allele è recessivo si indica con la lettera minuscola in un soggetto avremo il fattore RH positivo sia se c'è una condizione di omozigosi di grande e di grande sia in una condizione di eterozigosi di grande e di piccola si avrà invece un soggetto RH negativo in una condizione di omozigosi recessiva di piccolo di piccolo è possibile predire il gruppo dei figli di una coppia conoscendo il genotipo dei genitori prendiamo ad esempio due genitori che sono omozigoti dominanti per l'allele A quindi avranno entrambi un genotipo AA e un fenotipo A dall'incrocio di questi due individui si avranno dei figli che avranno tutti genotipo AA e tutti con fenotipo A incrociamo adesso un soggetto che ha fenotipo A ma che ha genotipo A0 lo incrociamo con un individuo che ha sempre genotipo A0 ma fenotipo A i figli che ne deriveranno saranno per un quarto omozigoti dominanti per due quarti eterozigoti per quel carattere e per un quarto saranno omozigoti recessivi fenotipicamente saranno per tre quarti tutti A tranne l'ultimo che sarà 0 questo perché nonostante l'eterozigosi il carattere dominante è la A quindi 3 su 4 avranno fenotipo A spostiamoci adesso sul fattore RH prendiamo un soggetto genotipicamente di grande e di grande che quindi mostra il fattore RH positivo che si incrocia con un soggetto di grande e di piccolo con fattore manifesto RH positivo i figli che ne deriveranno avranno per metà il genotipo di grande e di grande per metà di grande e di piccolo fenotipicamente poiché di grande è dominante ed è presente in tutti gli incroci si avrà sempre la manifestazione di RH positivo in tutti gli individui se prendiamo invece un soggetto con genotipo di grande e di piccolo che manifesta RH positivo che si incrocia con un soggetto di piccolo o di piccolo che manifesta RH negativo per una condizione di omozigosi recessiva otterremo dagli incroci una metà con genotipo di grande e di piccolo quindi una eterozigosi metà di piccolo o di piccolo omozigosi recessiva fenotipicamente avremo per metà degli incroci RH positivi e per metà degli incroci RH negativi la faccenda si complica in alcuni casi in realtà gli antigeni che si trovano sulla membrana dei globuli rossi hanno bisogno per aggrapparsi alla membrana del globulo rosso di un sostegno questo sostegno è noto come molecola H H è comunque una molecola che viene codificata dal DNA l'informazione per H è presente su alcuni alleli che possono essere H grandi o H piccoli quindi dominanti o recessivi se il soggetto è omozigote dominante o eterozigote cioè H grande H grande oppure H grande H piccolo per quel carattere verrà sintetizzato il sostegno dall'organismo e quindi gli antigeni potranno rimanere attaccati al globulo rosso ci sono dei casi in cui il soggetto però è H piccolo H piccolo quindi omozigote recessivo in questi soggetti in cui manca la molecola H si sviluppa il cosiddetto fenotipo Bombay proprio perché è stato riscontrato per la prima volta nella città di Bombay quello che succede è che l'antigene non risulta essere attaccato al globulo rosso il soggetto produce un determinato antigene ma l'antigene non è inserito nella membrana fenotipicamente questo soggetto sembrerà di tipo 0 perché non sono presenti antigeni in realtà questo soggetto non è un soggetto 0 genotipicamente perché appunto il soggetto presenta gli allili che codificano gli antigeni che però non riescono a stare attaccati alla membrana si riconosce quindi un fenotipo Bombay come un soggetto che è 0 produce però anticorpi anti-A anti-B e anti-H perché AB ed H o meglio AB sono presenti però vengono riconosciuti come stranei e quindi eliminati per il fenotipo Bombay gli incroci sono più complicati prendiamo un soggetto AA con fenotipo A ed un soggetto AB con fenotipo Bombay che quindi mostra fenotipo 0 gli incroci che sono indipendenti dal fenotipo daranno origine a dei figli che sono genotipicamente per metà a grande a grande e per metà AB i figli possono mostrare o meno il fenotipo Bombay a seconda dei genitori la madre sappiamo che è sicuramente H piccolo H piccolo proprio perché è il fenotipo Bombay quindi dipende dal padre se il padre è omozigute per quel carattere cioè ha genotipicamente H grande non ci sono probabilità che i figli abbiano fenotipo Bombay sarebbero tutti eterozigoti se invece il padre fosse a sua volta eterozigote quindi con il carattere H grande H piccolo l'incrocio darà origine a figli con il fenotipo Bombay il fenotipo Bombay non è una condizione patologica è semplicemente una condizione alternativa terminiamo parlando della malattia emolitica del neonato consideriamo una madre RH negativo che porta in grembo un figlio RH positivo in una prima gravidanza al momento del parto un po' del sangue RH positivo del figlio potrebbe mescolarsi con il sangue RH negativo della madre la madre quindi svilupperà degli anticorpi anti-RH il bambino nato non ha problemi però la madre viene sensibilizzata per il fattore RH se cioè venisse a contatto con il fattore RH il sangue della madre avrà degli anticorpi capaci di attaccare e distruggere i globuli rossi con il fattore RH se nella seconda gravidanza una madre precedentemente sensibilizzata cioè con degli anticorpi porta in grembo un soggetto RH positivo gli anticorpi della madre arriverebbero al figlio provocando la distruzione dei globuli rossi e quindi la morte per emolisi questa è la cosiddetta malattia emolitica del neonato ovviamente questo attualmente si previene con un trattamento che fa in modo che la madre non si sensibilizzi al fattore RH per questa stessa ragione che abbiamo spiegato i pazienti RH positivi non possono donare a soggetti RH negativi perché se i soggetti con RH negativo sono stati precedentemente sensibilizzati con sangue RH positivo si svilupperebbe una reazione di incompatibilità dovuta alla presenza di eventuali anticorpi grazie